Ciao amici di Bioenergetica Orientale o di Thai Gym, come volete chiamarlo, sono Giorgio. Ciao! Volevo dare il mio contributo alle cartoline estive, a questo album, non facendovi vedere le mie penose esibizioni, ma facendovi vedere invece il posto magico dove al mattino, quando sono in montagna, vengo a fare i miei esercizi. Ed è questo. Questa radura in mezzo al bosco. Mi dispiace che la tecnologia non permetta di trasmettere oltre suoni e colori anche il profumo, perché qui c'è un odore meraviglioso di resina e di genzia anello, non lo so, comunque è una cosa bellissima. e poi qui, per molto raramente, ma capita, ogni tanto si ferma mamma capriola con il suo cucciolo a guardarmi. Ed io ne sono onorato. Scusate la regia traballante, ma è così. Ciao! A presto!